Romeo Renis è stato il portavoce del PD Nuovo Corso, ha iniziato così il suo sostegno a Romano Carancini, oggi il PD come esce da questa vittoria di Romano Carancini? Ma intanto esce sicuramente rinforzato ma soprattutto consapevole che non avevamo visto in un modo sbagliato, avevamo visto bene, avevamo intuito che la gente voleva continuare questo percorso e quindi l'abbiamo fatto convinti e consapevoli che era la strada giusta. Siamo contenti, abbiamo lavorato per dare alla città una continuità, una sobrietà soprattutto, interpretando il sentimento, sperando, di tutti i maggioratesi o quantomeno la maggior parte. Oggi rifarebbe tutto di quello che ha fatto? Io non sono andata contro nessuno, non c'è stata nessuna autocandidatura, anzi è stato voluto da un gruppo di cittadini, rifarei tutto, anzi non mi invento di niente perché ho fatto una battaglia vera, sincera, contro tutto questo sistema, questo apparato politico. Quindi quando si fanno queste battaglie si sanno che si fanno contro tutto e tutti, ne sono molto fiera, ringrazio tutti i miei collaboratori che hanno fatto lo stesso sforzo con me con il cuore, ma continueremo questa battaglia, non finisce qui. Quale tipo di opposizione faranno? La posizione è quella che ho fatto fino ad oggi, fiera perché 5.000 persone ci hanno dato fiducia, quindi continueremo a fare questa opposizione fiera sui contenuti come abbiamo sempre fatto.